Benvenuti! Chi vuole il gelato più buono di tutti? Sì, io! Ne vogliamo uno io! Va bene, ce n'è abbastanza per tutti! Buon appetito! Grazie! Io adoro il gelato! Il paradiso del gelato, eh? Mettiamo fine a tutto questo! Bene, bene, bene! Ispezioniamo questa gelateria! Un critico di ristoranti? Salve! Proprio quello che ci voleva! Guarnizione perfetta per il gelato! Un po' di gelato! È davvero dilenzioso! Tu dici, eh? Il gelato è il migliore che abbia mai mangiato! Va bene, assaggiamolo! Allora, chi ne dice? Non le piace? Ma non lo sa che i peli sono estremamente antigenici! E lo vende anche ai ragazzini! Oh no! Provvederemo a chiudere questo bar! Per favore, mi dia un'altra possibilità! No! Prendi la tua roba e vattene via! Fuori! Con tutti i tuoi peli di gatto! Ciao, Kitty! Oh, che peccato! Benvenuta nel mio caffè! Sono senza casa! Dove vado? E questo chi è? Bel posto! Non farmi male! Vuoi una snack? No! Tu! Oddio! Ehi, lascia stare il porcone! Sono un tuo fan! Davvero! Mi fa piacere conoscerti! Posso avere un tuo autografo? Ma certo, nessun problema! Con amore da Kitty! Ecco qua! Wow! Questo è per te! Puoi prendere il mio pick-up! Davvero! Vado a farlo vedere a mamma! Ho un pick-up! Lo trasformerò in un nuovo caffè! Sì! Mettiamoci al lavoro! Prima di tutto, una bella pulizia! Oddio, che disordine! Per fortuna posso farcela! Tutta la spazzatura fuori! Un'antenna! Mi piace! Mi sono intrappolata! Oddio, spazzatura! Ogni centimetro deve essere perfetto! Cavolo, ma quanta ce n'è? Ce la posso fare! È lurida! Il mio pick-up ha bisogno di un bel bagno! Dai, Kitty! Ce la puoi fare! È solo acqua! È più difficile di quanto mi aspettassi! No! Mi è venuta in mente un'idea! Il mio libro degli incantesimi! È perfetto per i pick-up! Pioggia con lampi adesso scenderà! E con le sue ruote lontano non andrà! Nessun problema! Ho un bel ombrello! Stupido libro! Gli incantesimi sono stupidi! Sì! Ha smesso di piovere! Calma! Oh oh! Ops! La piazza ha lavato tutta la macchina! Ora sembra carina! Basta! Il prossimo passo è decorare in questo posto! Al lavoro! Nuovo rivestimento del pavimento! Oh sì! Il mio luogo enorme! Grande! Questa soffice coperta è letteralmente fatta per me! Uno scivolo e una piscina per i miei ospiti! Ed ecco il tavolo! Ritagliamo un fiocco da un foglio di gomma rossa! Sono praticamente identici! Strisce per i baffi in carta espansa nera! Quasi fatto! Ecco le orecchie! Certo! Una bella lampada rotonda! Ci incollerò le orecchie! Oh! E il fiocco! Oh sì! I baffi sulla faccia! È venuto proprio carino! E' pronta! C'è il locchietti dappertutto! Ho un'intera famiglia di lanterne gatto! Ora mettiamo in sicurezza il supporto! E montiamo le lanterne! Carine! Oddio! C'è spazzatura ovunque! Ragazzi, non va bene lasciare la spazzatura! Ecco perché mi occuperò di questa spazzatura personalmente! Non lasciate mai rifiuti! Non deve rimanere niente! Ecco tutto nel sacco! Wow! Dove c'era la spazzatura orecchie sono i fiori! Decorerò il caffè con questi! Però mi serve un vaso! Vediamo se c'è qualcosa che posso riusare! Sì, questo andrà benissimo! Farò un vaso con questo barattolo! Per cominciare, una tonnellata di vernice bianca! Poi, il mio classico fiacco rosso! Usiamo il colore nero per viso, occhi e baffi! Un bel naso giallo e là! Il grande momento! Mi chiamo i fiori nel foso! Sembra proprio carino! Ho dimenticato la cosa più importante! Gli inviti per l'apertura! Speriamo che tutto funzioni! Il mio caffè! Ehi! Vi preparerò il mio frullato esclusivo! Il segreto sono le sardine! Poi aggiungiamo il succo di fragola! Eww! E' aspro! Nessuno lo saprà! Un bel ragno fresco e croccante! Vieni da papà! Sarai il nostro spuntino! E ora frulliamo il tutto! Ha uno strano aspetto! Sembra buonissimo! Qualcuno vuole la panna montata? E il mio frullato personale è pronto! Prego! Ha un sapore divino! Tieni! Ha uno strano sapore! No, io non lo voglio! Provalo! E' gustoso! Disgustoso! Che cos'hai lì? Ho aperto un nuovo bar! Ecco l'invito! Vediamo! Il sito di un bar! Alcuni like! Ragazzi, premete il pulsante like! Non mi fate vedere! Così il critico viene da me! Wow! Ci sono un sacco di like! Grazie ragazzi! Ce l'ha fatta di nuovo! Gatto invertinente! Mi occuperò di lei! Il tuo nuovo caffè sembra un successo! Acquisitivo! Ottieni una steffa! Congratulazioni! Grazie! E vai! Divertiti finché puoi! Vi piacciono i frullati? Ho il mal di pancia! Non seguire Catnap Café! Nemmeno noi! Non aspetto! Aia! Aia! Il critico arriverà da un momento all'altro! Non sono ancora pronta! Il bancone starà qui! Nelle bevande e nelle bottiglchine personalizzate! Wow! Adoro questo programma di cucina! Proviamo! Oh wow! Ciao ragazzi! Faremo un fantastico milkshake! Prendete una banana! E una torta dolce! Ovviamente ci aggiungiamo del cioccolato! Oh! E un altro ingrediente! Il latte! Fragole per dargli un buon profumo! Ecco! Mescoliamo! Mmm! Sarà delizioso! Date un'occhiata a questo simpatico kitty! Si abbina proprio al mio drink! Versiamo con attenzione la bevanda! Pronto! Wow! È venuto fantastico! Mi piace! E a voi? Devo tornare al bar! Il kitty drink aspetta gli ospiti! Ovviamente decoriamo con panna montata! Che delizia! Venite a prendere il vostro kitty shake! Bene, bene, bene! Cosa abbiamo qui? Però, è pulito! Cos'è questa bevanda? Il mio esclusivo kitty shake! Prego! Oh, ha un sapore meraviglioso! È degno di un'altra stella! E vai! Grazie mille! Ha funzionato! Cameriera! Venga a servire i clienti! Voglio il miglior dessert che avete! Il miglior dessert di sempre! Arriva! Il miglior dessert per messier! Grazie! Torno subito! Ma... Che cosa? Gradisce della musica dal vivo? Assaggiamo! Mmm... Strommigliante! Devo mettere a segno questo colpo! Dormi! Sogni d'oro? Questo che significa? Veramente rispettoso verso i clienti! Mi riprendo una stella! Deve essere colpa del mio vino! I miei primi clienti! Ehi, ciao! Il caffè è allo kitty! Deve essere la mia location per il compleanno! Dai, aiutatemi ragazze! Che cosa abbiamo? È tutto quello che abbiamo! Basta! No! È gratis per voi! Sarà il miglior compleanno di sempre! Penso di sapere da dove cominciare! Faremo di nuovi cappellini! Prima cosa, ritagliamo delle strisce di cartone! Incolliamole in un cappello! E disegniamo dei fiori sulla carta bianca! Ritagliamoli e incolliamoli al copricapo! Il fiore deve avere un centro! Create un sacco di cappellini divertenti per tutti gli ospiti! Dove andate, Lucchetti? Eccomi qui! Via, cappellini! Un asso nella manica! Wow! Che carini! Kitty, hai un'idea fantastica! Grazie! Mia pancia! Ho fame! Clienti affamati, eh? Una ricetta fantastica! Per cominciare, ritagliamo un anello da una bottiglia di plastica! Diamogli la forma di un gatto! Miau! Mettiamo lo stampo sulla fetta di pane e ritagliamo la mollica! Allo stesso modo, ritagliamo il prosciutto e il formaggio! Sono dei piccoli panini a forma di gatto! Aggiungiamo salsa, un po' di lattuga al panino e facciamo il naso con il mais! Le olive saranno gli occhi! Pronto! Chi ha fame? Ecco i panini di Allo Kitty! Prego! Wow! Sono carinissimi! Che buoni! Vi piacciono? Sono al settimo cielo! E ora un'altra sorpresa! Una torta di compleanno! Esprimi un desiderio! Allo Kitty deve avere un'altra stella! Per me! Sto letteralmente volando! Sei proprio dolce! Siete degli amici fantastici! Grazie Allo Kitty! È il miglior compleanno di sempre! È ora di cucinare il nuovo piatto! Ecco la ricetta segreta! Una ricetta segreta? Devo prenderla! Ho capito! Bene! Mettiamoci al lavoro! Stresciamo di là! Acqua! Pagnato! Non mollerò per questo! Basta! Meglio rimanere senza ricetta! Fatto! Salve Kitty! Oh grazie! Vorrei proprio assaggiare il tuo nuovo dessert! Fermo! Il mio dessert ha un sapore migliore! Tieni! È immangiabile! È immangiabile! Volevi avvelenarmi? Vergognati! Io sono un critico rispettabile, sai? Assaggia il mio! Lo spero! Wow! Ha il sapore dell'infanzia! Merita almeno altre due stelle! Davvero? Grazie mille! Grazie mille! Allora quale sarà l'ingrediente segreto? L'ingrediente segreto è... L'amore! Sciocchezze! Wow! È il mio primo ordine! Kitty Delivery arriva! Pronta a consegnare dolcetti e felicità! La torta sta bene? Oh no! Un'idea! Una cassaforte per la torta? È pesante però! Non arrivo da nessuna parte con questa! So cosa fare! Ritagliamo il logo di Allochetti e quello di Delivery! Incolliamo tutto sul cartoncino floreale! Stiamo il cartoncino in una bella busta! Facciamo delle maniglie col nastro! Strabiliamo! Mettiamo dentro la torta! È pronto! Consegna che ti è arrivata! Chi ha tenato la mia torta? Ehi! Paghi tu? Ecco il tuo ordine! Incantevole! Cosa? Anch'io gli artigli! Cosa non gli è piaciuto della mia creazione? Oh no! C'è una serratura! Mi hanno chiuso dentro! Ragazzi, commentate qui sotto! Liberiamo Kitty! Così la porta si sbloccherà e potrà uscire! Mi salvate! Perché non riesco a fare niente? La porta è aperta! Siate fantastici, ragazzi! Il mio bar! Non sarò mai bravo come te! Ehi, Catnep! Lascia che ti aiuti! Facciamo un restyling all'Ello Kitty! Prima di tutto, una bella lavata! Ecco! Un bel colore! Poi puliamo il viso! Pronta? Wow! Ora è pulito e fresco! E ora il tocco di Allo Kitty! Sarà carino! Mi piace! E un ultimo tocco! Labbra luminose! Spettacolare! Ora hai bisogno di cambiarti! Gira bene! E la magia funzionerà! Girare? Ok! Sembro proprio... Bello Kitty! Ce l'abbiamo fatta! Manca un ultimo pezzo! Il fiocco! Lo adoro! Lei è mia figa! L'ho portata a vedere il tuo bar! Wow! Papà! Guarda quella gattina! Sarà la mia migliore amica! Io? Oh sì! Lei è la più carina! Allo Kitty caffè si guadagna cinque stelle! E poi il mio sogno sia vero! Congratulazioni Kitty! Sono tutte meritate! Tesoro! Dobbiamo andare a casa! Papà! Possiamo portarla a casa? E va bene! Cosa non si fa per i figli? E poi staremo sempre insieme! Ciao! Buona fortuna! Non si è arrabbiata! Ma certo che no, Kitty! Ho preparato un regalino! Vuoi giocare? Certo! No! È pericoloso! Che emozione! Sono pronta? Fantastico! Anch'io! Ma! Ma dei coltelli! Esme è in pericolo! Ma che cosa? Non ti lascerò fare del male ad Esme! Ti faccio vedere! Dormi! Ma che succede? Che odore terribile! Merita delle sardine! Rinfrescati l'alito! Ecco! Ma che succede? Kitty! Catnep! Fermatevi! Ora basta! Ha iniziato lei! No! È stata lei! Se l'hai cercata! Guarda che cosa è in tasca! Che cosa sono questi? Foto! Kitty! Sei stata tu? Sono stata imbrogliata! Grazie per l'aiuto, Catnep! Sì, signora! Papà! Gatti! Ecco perché! Sono terribilmente allergico! Sbarazzati subito di loro! Ma papà, sono mie amiche! Non puoi cacciarle! Va bene! Ne puoi tenere solo uno! È la mia ultima decisione! Solo una? E quale? Fai buon viaggio! Ci mancherai! Addio per sempre! Bye! Non è andato da nessuna parte! Ci penserò su! Tornerò tra sei ore con la mia decisione! Sei ore? Bye! Che cosa facciamo? Ma certo! Ridecorerò la stanza allo stile di Hello Kitty! Esme lo adorerà! Delirante! Farò anche un restyling della stanza! Esme sceglierà me! Al lavoro! Scusa! C'entra un altro poster qui! Vai! Favoloso! Una coperta rosa! Un sacco di pelus! Estate buoni qui! E luce, ovviamente! Devo solo sdistricarli! Eccezionale! Cosa faccio col pavimento? Ma certo! Lo coprirò con un tappeto morbido! Meravigliosa! Cosa? Che tenepposchietta da fare? È fantastica! Non posso perdere! Oh, certo! Siete pronti? Un gomitola di lana! Che cos'è? Ops! Il mio piano ha funzionato! Non è possibile! Kitty! Oh, che carina! Catnap! Ma che è successo? Mi sono fatta male! Kitty! Perché non dai una mano a Catnap con il suo casino? Al lavoro! È più difficile di quanto pensassi! Nap! A pranzo! Ho fame! Tu rimani qua! Mi chiedo cosa sta tramando! Oddio! Nel suo piano è di ipnotizzare i genitori! Non posso farlo succedere! Guardate! Di corsa! Catnap non ha buone intenzioni! Date un'occhiata! Una serratura? Ma com'è? Kitty! Ma ti stai inventando tutto! Credete? Mi è scritto qui! E tu ci hai disturbato per questo! Per carità! Ragazzi, aiutamemi a sbloccarlo! Mettete i pollici in su, per favore! Kitty ha qualcosa di strano per la testa! Ha pensieri veramente strani! Tienila d'occhio! È finita! Ti tengo d'occhio, sai? Vedremo chi ha la meglio! Come posso conquistare Esme? E se... La certo le farò un bel regalo! E mi terrà sicuramente così! Wow! Grazie, Kitty! Amiche per sempre! Addio, Catnap! Sarà meraviglioso! Solo che... Cosa le regalo? Ma certo! Userò delle vecchie cuffie! Per prima cosa aggiungiamo le orecchie! Tagliamo e incolliamo! Aggiungiamo un fiocco! Ottimo! Il regalo è pronto! Cosa? Non è possibile! Anch'io ho qualcosa in mente! E questo sarebbe il tuo regalo! Oh no! Questo è per te! È mio! Fermati! Preso! No! Dove vai? Preso! No! No! Cosa ha fatto? Ho vinto io! Non ancora! Ops! Ecco! Tutto a posto! Ehi, papà! Ciao! Cos'hai, Catnap! È una sorpresa per Esme! State zitte! Non ti tele niente! Una scatola! Wow! È mia! È mia! È mia! È mia! Addio, scatola! È tutta colpa tua! Ho un'idea! Artigli, non deludetemi! Tagliamo! Grande! È mio! E ora, la parte migliore! Aggiungo un fiocco e decorerò un po'! Aggiungiamo luci e mollette! È il momento delle mie foto preferite! È perfetto! Allora è così, eh? Bene! Posso farlo anche io qualcosa col cartone? Oh, sì! I giochi sono finiti! Sono tornata! Wow! Che carina! Kitty ha fatto tutto questo! Cosa è quello? Un vero collage! Kitty? Dove sei? Kitty? Kitty? Dove sei? Non capisco! Dov'è finita? Qui non c'è! Neanche qui! Ma dove sei? Oddio, Kitty! Ma che ti è successo? Se l'è meritata! Kitty, non preoccuparti! Ti salvo io! Innanzitutto eliminiamo gli insetti! Che schifo! E puliamo da questa melma! Ora ricucciamo tutti i buchi! Finiremo in un secondo! Dobbiamo curare i lividi! Ecco! Kitty, sei tornata! Sono proprio felice! Ma che cosa è successo? È colpa sua! È cattiva! Voleva uccidermi! E voleva rovinarti anche la tua vita! Che cosa facciamo? Ragazzi, commentate qui sotto Chi dovrei tenere? È l'oghiette o Katnep? Smascherate Katnep! E tenete Asma al sicuro, per favore! No! Dovete dirle di tenere me! Wow! Quanti commenti! Katnep è cattiva! Vuole ucciderti! Grazie dell'aiuto, ragazzi! Il segreto è svelato, Katnep! Ma con le buone maniere non funziona! Hai rovinato tutto! Dormi! Oh, che sono! Non ci provare, Katnep! Combatterò! Aiuto! Che succede? Lasciami andare! Stai tranquilla! Prima di tutto, un bel bagnetto! No! Il viso è il prossimo! Ecco cosa intendevo! Anche l'outfit non va bene! Questo è molto meglio! Ma che cos'è? Sei diventato Jigglypuff! Jigglypuff? Ah, mi piace! Ok, vieni! Ehi, venite con noi! Uno, due, tre! Un, due, tre! Un, due, tre! Wow! È Jigglypuff! Ti ho preso! Anche tu! Io non sono un Pokémon! Peter, vuoi un massaggio? Pika, vieni qua! Balla per me! Ah, più veloce! Con più passione! Naioso! Ah, chi è che canta? Ah, sì! Fatti un bel pisolino! Andiamocene via! Presto! Nascondiamoci! Cosa? Ma sono andati tutti via! Aspettatemi! Cosa? I miei Pokémon! Vi vengo a prendere! Oddio! È un incubo! Devo stare calmo! Dove mi nascondo? Dove? Sono un sacco di scatole! C'è qualcuno qui? No, questa scatola è occupata! Prenditene un'altra! C'è qualcuno qui? Ok! Uffa, non posso mai stare tranquilla! Oh, aspetta un attimo! No? No! Nemmeno questo! Metto bene! Sono sicura che era qui! Eccola! Cucino io! Buonissimi! Purtroppo non li posso mangiare tutti! Dai, Popcorn! Crude in voi! E vai! Eccezionale! Mi nasconderò qui dentro! Ma dove siete, Pokémon? Qualcuno si nasconde, eh? Quale arma scelgo? Vediamo! Questa! Grazie! So io come ingannarlo! Cominciamo! Un fiocco! Saranno altri regali! Ok, diamo un'occhia da quella scatola! Non finito i proiettili! Come sempre, dovrò usare la forza brutta! Non c'è niente! Qualcuno c'è qui! Ascoltiamo un po'! Oh, uno spuntino! Bene, bene, bene! Sento scricchiolare! Cosa? Non era niente! Oh sì, lo riconosco! Ci deve essere qualche piccaccio affamato! Allora, cosa dovrei fare questa volta? Dinamite! La migliore soluzione sempre! Buona fortuna, Pika! Oh no! Ops! Ai! Allora, Pika! Bene! Un Pokémon in meno! Allora, Pika! Ora ci divertiamo! Non ti agitare! Questo gioco è il mio preferito! Libera! Oh, noioso! Cosa? Non funziona! Aumentiamo! La sonnetica! Perché non funziona! Ho un asso nella manica! Pozione magica! Melma magica! Nelle mie schifezze preferite! Oh sì, è pronta! Ci riempirò il serbatoio! Sono pronto! Preparati, Pikachu! Dì addio al mondo! Che schifo! Allora? Non succede niente! Beh, bisogna dargli un po' di tempo! Come vuoi! Aspetta! Cosa? Che sta succedendo? Oh, cavolo! No! Non posso! Mi serve un antidoto! Eccolo! Presto! Il cattivo dorme! Ora vi prenderò l'antidoto! Anche subito! Cosa? È fuoto! Cavolo! Ragazzi! Aspettate! Mi servono 50.000 like per riempire l'antidoto! Solo voi vi potete salvare! Salve, maestro! Sì, ha funzionato! Il mio Dark Pikachu, ho una missione per te! Prendimi il Pokémon! Ci vado subito! Bene, bene, bene! Scommetto che è qui dentro! No, no, no! Oh, questa è la migliore! Vola, vedo un strallo! Chi odore! Amico, non vuoi scherzare con me? Ho le gomme all'oglio! Bella trovata, no? Al lavoro! Prendimi il ciclipo! E portala fuori! Un attimo! Devo difendermi! La mia zanna è imbarazzante! Che bello! Ok, andiamo avanti! Come? Sono bloccati! Ma che devo fare? Un misuratore di potenza! Bene! Con questa prenderò un'arma potentissima! Potere vita! Sì, è andato male! Ok, il microfono va bene! Ripensandoci, è l'arma perfetta per Ghibli Puff! Che terribile! Le mie orecchie non le sopportano! Basta! Smettila di torturare la musica! Ecco di qua! Ops! Che succede? Aiuto! Ora sono subito da te! Che punizione posso scegliere? No? Troppo facile! Già fatto! Mollette elettriche! Queste sono mie! Devo scappare assolutamente! Mollette! Ecco la mia pozione! Ma... Ghibli! Pikachu! Ghibli è scappata! Vai a prenderla! Oh no! È chiusa chiave! C'è una combinazione! Qual è il codice di accesso? Il complano di Peter? Cosa? Ragazzi! Mi aiutate per favore! Tornate all'inizio del video e vedete qual è il complano di Peter! Per favore! Oddio! Non ce l'ho fatta! Il nostro primo obiettivo è... Mew! Andiamo a prenderlo! Santo cielo! Aiuto! No! No! Per carità! Oh! Questo sì! Cosa? È così piccolo! Va bene! Milton, dove sei? Vieni qui! Mi arrendo! No! Dove può essere? Che cosa c'è lì? Laser! Ops! Sembra che non funzioni! Scegliamo un'altra arma! Oh sì! Un gomitolo per il nostro gattino! Perfetto! Ecco qua! Il gatto ci cascherà! Secondo me no! Un gomitolo! Lo adoro! Ops! Arriviamo! Che faccio? Artiglio affilato! Una manna dal cielo! Un gatto cattivo! Un gatto cattivo! Un gatto cattivo! Stiamo calmi! Allaboriamo un nuovo piano! Ma certo! Ma certo! È ovvio! I gatti adorano il latte! Qualche goccia di pozione per ravvivarlo! E con questa gli terremoto! E con questa gli terremono imboscata! Come ha fatto? Stupido cratto! Ci ha preso in giro di nuovo! Latti! Aspetta! Perché bere da una ciotola quando ci sono i flute? Sono un gatto elegante! Paradiso latte! Aspetta! C'è uno strano odore! Ci hanno messo dentro qualcosa! Ho un'idea! Ma dove sei? Non vi preoccupare che sto vincendo! Sono affamato! Ha funzionato! Dai, vieni! Venite, miei Dark Pokémon! Adidotò! Eccolo! Questo ci aiuterà! Garibbiamo! Tornate, ragazze! Ma cosa? Dai! Che cosa ci hai fatto? Non potete battermi comunque! Sono io il capo! Questo lo vedremo! Ehi, nonina! Tuo nipote è fuori controllo! Certo, sì! Ti aspettiamo! Stai fermo lì! Caro gattino! Riparati la camicia! Pokémon, aiutatemi! Non c'è pensare! Questo cos'è? Un'altra Pokéball! Chi c'è lì? Piano Pika! Ma mio Dio è pazza!